Il Comune dell'Aquila rischia il dissesto finanziario per i debiti del progetto case, un altro decreto ingiuntivo per circa 800 euro più interessi. A denunciarlo è il consigliere comunale Lelio De Santis, il capogruppo di Cambiare Insieme Italia dei Valori. Mentre la politica cittadina attende l'esito del Consiglio di Stato per il ricorso elettorale e si prepara alle regionali, dice, le attività amministrative e consigliari sono praticamente fermo. Nel frattempo aumenta l'indebitamento del Comune a seguito delle pendenze debitorie accumulate negli anni e non fronteggiate in modo energico oggi, che hanno raggiunto circa 13 milioni solo per i debiti della mancata riscossione delle utenze del progetto case, reclamati ed accordati a Banca Sistema per 4,5 milioni, a Banca IFIS per 4 milioni, a Dantas per 3,5 milioni e a Banca Pharma Factoring per circa un milione. A questo indebitamento bisogna aggiungere l'attuale esposizione debitoria di qualche milione derivante dal mancato invio delle bollette riferite al periodo a decorrere dal febbraio 2017.